Ciao, vediamo come potersi iscrivere ad una classroom e poter quindi partecipare alle video lezioni. Intanto bisogna andare in Google, accedere con le proprie credenziali. Vedete con nome, punto, cognome, chiocciola il vostro dominio di scuola. Ricordate che se è il primo accesso vi chiederà come prima password il cambiami trattino basso 1 e poi dovrete inserire una password di vostra invenzione che dovete sempre ricordarvi. Avanti, quindi accede, ecco vedete mi chiede una nuova password efficace, confermarla. A questo punto io posso andare nella mia Gmail per poter vedere appunto le informazioni che eventualmente mi sono arrivate. Ma in questo caso vado nei nove pallini in alto che si chiama Waffle e vedo che ho tante applicazioni tra cui abbiamo anche Meet, Gmail, Drive che è un contenitore dove tutti i nostri materiali delle Classroom vengono poi archiviate e calenda dove posso vedere gli appuntamenti che i professori mi hanno assegnato. Adesso però a noi interessa Classroom. Se è la prima volta che accedete non lo trovate tra le icone presenti dovete andare su Altro da Google. Vi si apre una nuova pagina, dovete scorrere fino a che tra tutte le applicazioni presenti trovate quella che interessa a noi. E' un po' in fondo, ecco qua, Google Classroom, clicco. Ecco, la prima volta, ecco vedete, mi chiederà all'inizio se, è la prima volta se sono un docente oppure uno studente. Voi dovete mettere naturalmente studente. E poi posso andarmi a iscrivere al corso. Cliccando qua, vedete, io posso mettere il codice del corso che eventualmente il professore mi ha inviato. In alternativa, se sono già stata inviata e invitata, potrò trovare già delle icone qua presenti, delle Classroom a cui mi devo iscrivere. Ecco, come docente ho appena creato una Classroom di prova e ho, vedete, invitato l'alunna in questione che si trova quindi davanti a questa opzione e io posso fare iscrivermi, o rifiuto, ma in questo caso naturalmente mi iscrivo al corso di prova di tecnologia. Ecco qua che io quindi ho, dico ok, ecco ho davanti la mia Classroom con tutto quello che ne fa parte. Vedete che qui davanti nella parte di stream ho già dei materiali che la professoressa ha già caricato. Posso anche scrivere io un commento per se voglio dire qualche cosa all'insegnante. Sui lavori del corso mi troverò i materiali che man mano il docente mi va a pubblicare, compiti, materiali, video, esercizi di verifica, nel caso di Google Moduli o quant'altro. E poi in persone vedo che ho come insegnante la professoressa, oppure posso trovare altri insegnanti, altri miei compagni di classe. Questa naturalmente è soltanto una prova e quindi abbiamo solo uno studente. Ecco, torniamo nello stream e vediamo come poterci collegare al nostro Meet per poter fare la video-elezione all'ora indicata dall'orario che abbiamo a scuola. È semplicissimo, devo solo cliccare qua su Partecipa. Mi si apre l'app schermata di Meet, ecco, gli dico consenti naturalmente a poter utilizzare eventualmente microfoni e quant'altro. La videocamera poi si va ad avviare. Ricordiamo che posso poi non inserire subito la fotocamera e anche il microfono quando entro, soprattutto se la lezione è iniziata, ma poi durante la video-lezione il microfono è sempre meglio tenerlo spento, finché la professoressa o il professore non mi chiedono di attivarlo per qualche motivo. La videocamera, se ho una buona connessione, è meglio lasciarla attiva. In così vedo anche i miei compagni e gli altri vedono me. Ecco, se però ho proprio problemi di connessione, per poter avere un collegamento più stabile, di solito è meglio spegnere la telecamera. Ecco, e poi clicco su Partecipa e i miei colleghi in automatico troverò l'insegnante con i miei compagni di classe. Tornando, ecco, all'eventuale Classroom, l'unica cosa che volevo farvi ancora vedere è come eventualmente fare i compiti. Vedete che qui ho dei compiti assegnati. Io posso visualizzare il compito, andarlo a vedere, e posso, vedete, la prima volta mi dà proprio le indicazioni Google, mi fa proprio da tutorial, aggiungerlo, creare un file, contrassegna come completato nel caso in cui l'ho fatto, e io posso caricare il compito che l'insegnante mi aveva richiesto, può essere un'immagine, un pdf o quant'altro, oppure inserire un commento per dire, professoressa, non ho capito bene, cosa devo fare in questo compito, o qualunque, oppure grazie se mi è stato valutato e se va bene, insomma, la consegna che è stata fatta. Ecco, queste sono le indicazioni principali che potete trovare in Classroom. Per tutto il resto, chiedete tranquillamente ai vostri insegnanti che vi possono aiutare.